Il mercato nel campo torna nella piazza del campo a Siena, sabato 5 e domenica 6 dicembre, in compagnia del vice sindaco Fulvio Mancuso. Presentiamo questa edizione invernale che, lo ricordiamo, ha una dedica importante quella di Siena, capitale italiana della cultura. Il mercato nel campo non è un evento che ha bisogno di grandi presentazioni, dal 2009 viene ricostruito filologicamente il mercato grande che dal XIII secolo veniva svolto tutte le settimane a Siena e questo è successo fino alla fine dell'Ottocento. I grandi ospiti saranno ovviamente i prodotti dell'eccellenza dell'agroalimentare senese e non solo, si uniranno a queste anche le eccellenze italiane ed europee. Ci saranno anche gli eventi collaterali, ma altrettanto importanti, come le grandi degustazioni di vini nel cortile del Podestà. Ci saranno le improvvisazioni teatrali di Francesco Buroni di Ares Teatro. Ci sarà anche il mercato delle idee. Il mercato delle idee significa libri, significa cultura, perché la dedicazione quest'anno al mercato nel campo è proprio a Siena e alle altre città italiane e capitali della cultura. Ci saranno autori che hanno scritto, appunto, delle 5 città capitali italiane della cultura. Vi saranno i bambini, i protagonisti, come sempre, di visite liquidate, esploreranno la città, il palazzo pubblico e poi anche avranno il loro momento nell'Orto dei Pecci, in cui ci sarà la merenda e anche la possibilità di costruire un manufatto con i prodotti del mercato nel campo. Una grande festa della città che richiama tantissime persone da Siena, dalla Toscana, dall'Italia e dal mondo, tantissimi visitatori e quindi una ricaduta importante anche per l'economia della nostra città. E poi c'è un lancio importante da fare, ovvero l'edizione primaverile che farà seguito a questa invernale e che, appunto, magari potrà vedere anche forse presenza maggiore di turismo, insomma, per la stagione. Sì, questa è la vera novità di quest'anno e che, appunto, avremo anche l'edizione primaverile, nel primo weekend di aprile. È, sinceramente, una grandissima e bellissima cosa per il mercato nel campo, ma anche perché riesce, in un periodo, diciamo, destagionalizzato per il turismo, ad attrarre persone che sicuramente saranno curiose di questa nuova versione, di questa nuova edizione, di questa nuova rappresentazione del mercato nel campo. Carmine Diurno, Confesercenti. Parliamo della composizione di questo mercato all'interno della conchiglia di piazza del campo. Beh, il mercato ormai ha una sua composizione tradizionale. Vi saranno alcuni banchi dedicati all'artigianato, alcuni banchi dedicati al commercio e alle produzioni tipiche locali e 30 banchi alle eccellenze nazionali. In tutto sono circa 150 banchi. 15 postazioni, invece, saranno nel cortile del Podestà per vinarte, che è un connubio vino, arte e il luogo è già di per sé un richiamo forte all'arte. C'è l'ingresso del nostro miglior teatro, c'è l'ingresso del museo civico, per cui la collocazione di per sé è di grande prestigio, di grande livello. Alcune curiosità. Prodotti tipici. Nei nazionali abbiamo, lo voglio dire perché è un prodotto povero, l'aglio di Sulmona. Se da Sulmona vengono qui a vendere l'aglio è perché il mercato in qualche modo funziona. Abbiamo ormai una presenza storica di 18 regioni d'Italia, tre nazioni estere, Russia, Francia e Grecia quest'anno, che ci portano le loro prelibiatezze dal caviale russo a anche l'olio greco, perché l'olio greco quando non passa la trafila dalla contraffazione è come un buon olio del Mediterraneo, è molto buono. Quindi, come dire, conosceremo alcune prelibiatezze di altri territori. Il cioccolato, poi, giustamente per alleietare il palato dei più golosi, è senz'altro di alta qualità. Abbiamo una produzione tipica locale, dico le Valdelsa, ma è anche una produzione nazionale che viene da Perugia e dall'Umbria. Questo è un po' le curiosità del mercato. L'anno passato abbiamo avuto 140.000 visitatori circa. Il mercato ha fatto sold out dei parcheggi della città per due giorni consecutivi. Noi non è un mercatino di Natale, come abbiamo detto, è un mercato storico. E perciò ci teniamo, come dire, che dal cuore della città, da Piazza del Campo, parte un messaggio e un augurio di buon lavoro a tutti coloro che saranno chiamati a fare il loro durante questo mercato, dai negozi del centro, dai ristoranti, ai vigili urbani. Per cui sarà faticoso e un ringraziamento a Siena Calcio che ha deciso di anticipare la partita il venerdì. Con Elena Lappadula di ConfCommercio approfondiamo alcuni aspetti del mercato nel campo, in particolare i laboratori tematici e le esibizioni ai fornelli degli chef. Ecco, come saranno organizzati? Allora, anche quest'anno ci saranno dei laboratori che si svolgeranno nella parte antistante del Palazzo Pubblico e ci saranno nella prima parte della mattinata, sia del 5 che del 6, dalle 10 alle 12, uno spazio dedicato ai bambini, organizzato dalla piccola fattoria Il Forte che praticamente insegnerà ai bambini a cucinarsi il pranzo. Le 10 a mezzogiorno arriveranno col pranzo pronto, quindi conosceranno i cibi, i prodotti della terra e ci lavoreranno. Nel pomeriggio, il 5 e 6, cominciano dalle 15 i laboratori tematici per adulti, mettiamola così. Il 5 alle 15 ci sarà un laboratorio con Stefano Franceschini dell'Ape Contadina. Lui ci parlerà delle funzioni, del potere in cucina delle erbe aromatiche e dell'aglione. È una pianta rarissima, in provincia di Siena solo 10 produttori al massimo, quindi insomma che noi diamo per scontata, è un ufficio all'aglione, però insomma anche per averli non è così scontata come cosa. Invece alle 15 del 6 avremo un laboratorio dedicato alle carni. L'abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno a maggior ragione viste le polemiche, le discussioni sulla carne, la salute eccetera. Anche l'Associazione dei Macellai si è resa di nuovo disponibile ai laboratori della carne. Quest'anno gli affiancheremo altre due figure, una nutrizionista e una chef. Quindi affronteremo il tema del potere nutritivo della carne, il giusto dosaggio per non arrecare danni alla salute e poi avremo saggi consigli di una chef che è specializzata nella preparazione delle carni e ci dirà qual è il modo migliore per gustare la carne senza perderne le qualità. Dalle 16.30 di tutte e due le giornate, sia del sabato che della domenica, cominceranno i laboratori di show cooking. Avremo il sabato Pierino Fagnani, Bagoga e poi due chef, avremo nella fascia oraria successiva un show cooking a quattro mani con Michele Vitale e una chef sua ospite. Invece la domenica avremo altri due ristoratori abbastanza conosciuti nella realtà di Siena, nella preparazione dei piatti tipici di Siena che sono Ettore Silvestri di Ristorante Casa Mia e Mirko Atrigna del ristorante dell'Osteria Le Logge, quindi avremo questa parte. Ci sarà a contornare, ad abbellire, ad aglietare tutto il mercato, Francesco Burroni con la sua compagnia teatrale, con improvvisazioni medievali e poi due cantastorie fantastici che sono Ugo e Casimiro che in una maniera abbastanza innovativa e itinerante ci ritroveremo un po' in tutto il mercato, quindi ad aglietarci. Ci saranno anche organizzati dalle guide turistiche dei percorsi per bambini collegati al percorso francigeno però faranno un giro, si dice a passeggio con Gino, al mercato con Gino, loro visiteranno alcuni banchi del mercato, faranno la spesa e poi prepareranno anche loro le cibi e faranno una grande merenda alla fine. Quindi abbiamo cercato di pensare a grandi e piccini senza far perdere l'attenzione sul mercato stesso.